Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 2 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Tanti progetti e la grinta per realizzarli. Sul piano professionale oggi non vi manca proprio nulla, un'intensa e creativa progettualità e la grinta necessaria per tradurre l'idea in concreto. Nulla vi verrà regalato, però, tutto ciò che andrete elaborando sarà esclusivamente farina del vostro sacco, anche le vostre convenzioni le dovrete perorare con energia, ricorrendo a un lessico forte e incisivo. Niente interi azioni adolescenziali, quelle sono concesse solo in famiglia o con gli amici, sul lavoro sempre ineccepibili. Luna storta e immusonita in dodicesima casa, ma non si dice, non vi va di dare in pasto le vostre emozioni al primo che passa e proprio oggi, visti gli umori familiari, nemmeno ai vostri cari, nessuno vi sa capire meglio di voi stessi. Regali e doni inattesi, regali di valori e molto graditi. Aiuti economici, eredità, prestiti, entrete finanziarie. Per l'amore sarà un periodo di ripensamento e di riflessione molto produttivo, la maturità prenderà il sopravvento e si baderà più alle cose concrete. I single avranno mille piccoli vantaggi e un miglioramento della loro posizione economica. Chiarimenti necessari con la persona che amate, Mercurio vi aiuterà non poco a mettere in evidenza una situazione che si è venuta a creare e di cui non riuscite a venirne fuori, e che tuttavia potrebbe, alla lunga, crearvi qualche problema. Alcune storie extra potrebbero finire senza un vero perché lasciandovi l'amaro in bocca, non soffermatevi su ciò che non è stato, ma piuttosto sui danni che avete subito nell'affrontare una storia innaturale. Il lavoro richiede più concentrazione. Non prendere decisioni importanti. Potreste essere coinvolti in una questione che potrebbe mettervi in imbarazzo. Evitate di ficcarvi in qualche guaio, ne avete già fin troppi. Se avete ricevuto dei torti da parenti amici. Ebbene è giunto il momento di perdonare e iniziare un nuovo corso nei rapporti con loro. Non lasciatevi prendere dal rancore che frena solo le energie fresche e nuove. Oggi è il giorno della concretezza. Realisti e pratici ecco cosa dovrete essere particolarmente in giornata. Non affannatevi a cercare scuse, restate con i piedi per terra. La giornata di oggi si prospetta con molti nei e contrattempi, meglio non insistere troppo nel cercare di affermare le proprie idee e di farsi le proprie ragioni. Probabili noie in famiglia o in casa. Ad opera con cautela arnesi taglienti. Teatro, cinema, arte, giochi e tutti gli altri divertimenti ti attireranno. Belle notizie in arrivo, opportunità di lavoro a portata di mano e voi avete l'opportunità di trasformarla in una splendida realtà. Fate tutti gli sforzi necessari per ottenere risultati brillanti. Il cielo di inizio febbraio si mostra variabile per voi scorpioni. A rendere più pungente il pieno inverno infatti, c'è un duo di pianeti nel segno nemico, amatissimo dell'acquario e, per la precisione il sole e soprattutto il vostro astro nome tutelare per eccellenza, Plutone. Niente di particolarmente grave o preoccupante in realtà, soltanto un po' più di pepe in ogni campo, per movimentarvi la giornata, che, comunque, ha un temperamento sfidante come il vostro, non dispiacerà di certo. Che broncio vi mette la luna stamani prigioniera in dodicesima casa, scontenta lei, scontenti di riflesso anche voi, ma fortunatamente consolati dal binomio Mercurio-Marte in Capricorno, segno concreto e selettivo, buon amico del vostro. L'essenziale è non restare a crogiolarsi tra i propri dispiaceri o a fare le uova, datevi una mossa, il primo passo è quello che costa e conta, il secondo sarà già meno faticoso e così via via tutti gli altri. Amore ed Eros Rapporti sociali complicati dalla vostra lingua lunga, quando qualcosa non vi torna non riuscite a trattenervi, la battuta feroce parte immediata e colpisce il segno, attenti all'effetto boomerang. Sappiate colmare i vostri tipici difetti con la dolcezza e la serena capacità di dialogo. Sole e Plutone, entrambi imbronciati e come si diceva dal segno dell'acquario, vi possono non fornire quella sensibilità, quella delicatezza di tocco, quella ricettività con la persona amata, che di solito non vi difetta davvero mai. Venere dal Capricorno è al vostro fianco se siete nati a inizio novembre. Lavoro e denaro Programmi ambiziosi da ridimensionare, se non lo capite da soli vi ci costringono gli eventi che cominciano a girare per il verso sbagliato. Vitali in varie situazioni, a scuola, nei commerci, in società, al volante e proprio su questo punto le stelle vi tirano le orecchie, vietata la guida veloce, tanti incidenti potrebbero essere evitati. Attenzione a non essere troppo frenetici se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 15 del mese di novembre, sarà oggi Urano, uno dei pianeti vostri numi contrarie ora, che potrebbe rendervi nervosi e precipitosi. Dal segno fidato dei pesci Saturno e Nettuno vi facilitano in ogni settore lavorativo, sia che abbiate abbracciato una libera professione oppure se abbiate un'attività dipendente. Benessere A momenti sfoggiate una grinta da paura, a momenti invece vi sentite degli straccetti, l'energia va su e giù come un'altalena, stabilizzatela indossando qualcosa di giallo o una collana di ambra. Denaro Ci vuole equilibrio nel gestire una delicata situazione patrimoniale che oggi riguarda la vostra famiglia d'origine. Col vostro garbo e la capacità di visione che dimostrerete, ci riuscite alla grande. Per lei, streghette lo siete per la griffe plutoniana del segno, oggi poi con la luna in transito nella dodicesima casa scoprite passioni nuove e magari anche nuove abilità, la lettura dei tarocchi e delle linee della mano per esempio, quanto ai simboli astrologici, li interpretate già benone. Per lui, sempre lì, fissati con una donna già uscita da tempo dalla vostra vita, troppe battaglie, rimostranze, rancori. E allora perché continuare a rimpiangerla? Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.